Heidi insieme sulle montagne quando Heidi si svegliò nella baita del nonno nella valle suonavano le campane e gli uccellini cantavano felici dopo colazione si preparò per andare a far visita alla nonna di Peter corso perdifiato giù per il sentiero finché la piccola casetta non fu in vista che strano qualcuno è entrato in casa correndo proprio come faceva Heidi sono io nonna sono io Heidi esclamò lei abbracciando la vecchia signora e coprendola di baci la nonnina non riusciva a credere che fosse proprio lei finché non se ne accertò con le sue stesse mani che passò sui riccioli di Heidi intanto la bambina raccontava della sua vita a Francoforte figuratevi che non ci sono alberi né fiori né capre né montagne solo grandi edifici di pietra con le finestre chiuse per forza Clara non è mai stata bene anche tu non hai più le tue belle guancine rosa disse la mamma Peter non ti riconoscerà quando torna a casa da scuola oh io sto bene sono stata malata di nostalgia ma ora che sono dal nonno mi sento meglio poi senza dire niente Heidi prese un libro di canzoni da uno scaffale e ne soffiò via la polvere cosa vuoi che ti legga nonnina chiese alla vecchia signora quello che vuoi bambina quello che vuoi ma sai leggere davvero Heidi ecco qui ce n'è una che parla del sole credo che ti piacerà il sole dorato illumina il prato e dispensa il suo calore su di noi con amore Heidi sai leggere davvero e Heidi continuò a leggere finché la porta della casetta si aprì e comparme Peter la bambina felice gli corse incontro e lo abbrecciò e non è vero che lui non la riconobbe Heidi gli raccontò tutto quello che aveva fatto in città soprattutto che aveva imparato a leggere e quando Peter ammise che lui invece non aveva ancora imparato Heidi gli disse domani andremo su al picco dell'avvoltoio e ti darò la prima lezione davvero riuscirai a insegnarmi certamente vedrai per tutta l'estate Heidi Peter e le capre vagarono per l'alpeggio su oltre la baita del nonno Heidi vide di nuovo i fiori e gli uccelli e tutte le cose che le erano mancate tanto e per le quali aveva sospirato laggiù a francoforte nessuno al mondo era più felice di lei ad eccezione forse di Peter con l'aiuto della bambina egli un poco ogni giorno imparò a leggere prima le lettere poi le parole poi le frasi finché poteva leggere correttamente i libri della nonnina poi un giorno mentre Heidi stava giocando fuori dalla baita vide una piccola carovana salire dal villaggio e mise un'esclamazione così acuta che il nonno uscì di corsa a vedere che cosa era successo sono arrivati sono arrivati finalmente guarda nonno guarda la processione si inerpicava lentamente lungo il sentiero davanti c'erano due uomini che portavano una specie di portantina con dentro una fanciulla avviluppata in scialli e coperte dietro di loro una signora cavalcava un bel cavallo bianco e per ultimo veniva un uomo che spingeva una seggiola a rotelle vuota ed era carico di cappotti e pacchettini quando arrivarono alla baita Heidi si slanciò verso di loro e baciò la fanciulla seduta nella portantina era clara la sua amica di francoforte e sul cavallo c'era la nonna di clara che casa deliziosa avete nonno esclamò la vecchia signora smontando da cavallo non mi stupisce che Heidi avesse tanta voglia di tornarci ti piace clara chiese Heidi tutta eccitata clara si guardò intorno sbalordita non aveva mai visto niente di più bello posso rimanere qui per sempre chiese alla nonna beh non so se puoi starci proprio per sempre ma se il nonno è d'accordo puoi rimanere senz'altro per un po' ti prego di di sì implorò Heidi il vecchio sorrise ma certo che puoi rimanere clara infine tutti andarono a fare uno spuntino a base di latte e formaggio abbrustolito e restò inteso che la nonna di clara sarebbe tornata a prendere la nipote un mese dopo quella sera dopo il tramonto il nonno portò clara su per la scala fino al solaio dove dormiva Heidi forse sembrerà un po' strano a una signorina come te e disse ma credo che ti troverai bene quassù è come un sogno disse clara Heidi mi ha parlato tanto del suo letto di fieno e della finestrella rotonda ma non avrei mai immaginato di poter vedere con i miei occhi tutta la vallata è proprio come mai descritto sai Heidi solo è ancora più bello e domani conoscerò Peter e la nonnina e tutte le capri sono così infelice ma Peter non era contento gli pareva che Heidi lo mettesse da parte per clara e quando al mattino si presentò alla baita consentì di malavoglia ad aiutare Heidi a spingere la sedia a rotelle su per il ripido sentiero quando si sedettero a far colazione la sua gelosia divenne così forte che non visto in un impeto di rabbia si slanciò sulla sedia a rotelle tolse il freno e le dette uno spintone la seggiola rotolò per il pendio sempre più velocemente in un lampo fu sull'orlo del burrone e precipitò fracassandosi in mille pezzi sulle rocce sottostanti oh la mia sedia gridò clara inorridita come farò a scendere a valle oh se potessi camminare ti aiuteremo noi a scendere le disse Heidi mettimi un braccio intorno al collo e con l'altro prendi Peter sotto braccio ora appoggiati bene e noi ti porteremo d'accordo? ma clara non era leggera e presto si stancarono appoggia bene un piede per terra le disse Heidi clara obbidì adesso l'altro sostenuta da Peter e da Heidi clara tentò due brevi passetti credo che ce la farò Heidi lentamente faticosamente clara fece un passo poi un altro cammino guardatemi cammino clara si teneva forte a Peter e a Heidi ma scoprì che riusciva a muovere dei passi da sola per la prima volta camminava Heidi era fuori di sé dalla gioia se il nonno e la tua nonna potessero vederti ora potrai venire con noi in montagna tutti i giorni camminarono ancora un po' poi si fermarono per riposare il sole scottava e dopo un po' sia per le emozioni della mattinata che per il profumo inebriante dei fiori si addormentarono profondamente tutti e tre dormirono fino al tramonto quando il nonno in pensiero per il loro ritardo salì a cercarli chiamandoli a gran voce Heidi si svegliò e corse da lui nonno nonno clara cammina cosa? ma che dici bambina? non è possibile ma sorridendo e sostenendola esortò clara a camminare lentamente con attenzione la bambina compì effettivamente qualche passo è meraviglioso esclamò il nonno ma non dobbiamo esagerare e presa clara fra le braccia la portò fino alla baita subito il mattino dopo il nonno disse che avrebbe scritto alla nonna di clara di venire perché aveva qualcosa di molto speciale da comunicarle i giorni che seguirono furono forse i più felici che Heidi avesse trascorso ogni mattino clara si svegliava sentendosi meglio e più forte e ogni volta riusciva a camminare di più passarono diversi giorni poi la nonna scrisse che sarebbe arrivata l'indomani con il padre di clara il signor seseman seduto su una mananca davanti alla baita Heidi e clara aspettavano i loro ospiti e infine arrivarono come? si stupì la nonna quando vide clara come mai non sei sulla tua sedia a rotelle? allora aiutata da Heidi clara si alzò in piedi e abbracciò la nonna il signor seseman rimase lì a fissare la figlia con gli occhi pieni di lacrime non mi riconosci papà sono cambiata così tanto rise clara clara sua figlia abbronzata e piena di salute i capelli dorati dal sole gli stava venendo incontro camminando lungo il sentiero corse da lei e la prese fra le braccia ma sei davvero tu mia cara si papà rise clara poi si fece seria la mia seggiola si è rotta su all'alpeggio e così Peter e Heidi hanno dovuto riportarmi a braccia ma facevano così tanta fatica ho proprio dovuto camminare dovevo farlo Heidi, la nonna, il nonno e Peter li raggiunsero andarono tutti insieme alla casetta di Peter a festeggiare l'avvenimento il rumore delle loro risate si sparse per la valle e trovò eco fra le montagne il nonno intimidito e goffo nel suo vestito migliore cantò una canzone presa dal libro della nonnina che bella voce avete esclamò nonna Seseman dovreste cantare nel coro della chiesa e con gran stupore di tutti il nonno rispose penso proprio che lo farò se mi vorranno comunque dovrò portare giù a Dörfli Heidi per la scuola l'inverno prossimo solo Peter restava fuori dall'allegria generale si sentiva colpevole per aver spinto la sedia di Clara giù dal burrone vieni qui ragazzo lo invitò nonna Seseman voglio ringraziarti perché anche tu hai aiutato Clara a camminare e ti meriti un premio no disse lui quasi in lacrime io avrei dovuto aiutare Clara invece ho spinto la sedia giù dal burrone perché ero geloso non è stato un incidente Heidi lo sa ma non l'ha detto perché è mia amica ma io so di avere fatto male e mi dispiace tanto tutto scosso Peter aspettava la reazione della nonna beh sì non è molto bello quello che hai fatto disse la vecchia signora ma è servito a far camminare Clara quindi non devi più essere triste perché anzi le hai fatto un favore presto troppo presto arrivò l'ora di partire il signor Seseman e la nonna avevano già deciso di portare Clara con loro al momento di salutarsi molte lacrime furono versate ma la nonna disse che la prossima estate Clara sarebbe tornata a stare col nonno con Heidi e con Peter nella loro bella casa fra le montagne grazie a tutti 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 grazie a tutti